Una giornalista spezzina che ritorna nella sua città per presentare un libro incentrato sul tema della memoria, un tema scottante che viene molto dibattuto in questo periodo. Sì, ho deciso di ambientare il romanzo Cattive Memorie proprio alla Spezia perché la Spezia è stato un luogo molto importante durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi il mio protagonista, che è un ragazzo di 16 anni, vive immerso in tracce di questa memoria, di questo passato che coinvolge il suo bisnonno nei confronti del quale incomincerà a indagare perché avrà paura, per lui una grande paura, che questo bisnonno fosse stato coinvolto nel fascismo e nell'azione degli ebrei. Perché oggi è così difficile rapportarsi a questa memoria? Se ne parla tutti i giorni, non solo nelle scuole ma anche nei mass media? La memoria è fondamentale per guardare il passato, per guardare anche al futuro. I ragazzi sono molto sensibili a questo tema e quando gli viene prospettato nelle scuole, in occasione della giornata della memoria, dimostrano attenzione e sensibilità. Quindi io non credo che sia proprio difficile. L'importante è trovare le storie giuste e le testimonianze. Ecco, la testimonianza è sempre più difficile perché le persone che hanno vissuto quell'epoca mano a mano sono scomparse, però possiamo sempre farlo raccontando delle storie. Esatto, c'è una storia come Cattive Memorie, appunto questo libro. Ci sono anche testimonianze come quelle per esempio del Museo Audiovisivo della Resistenza che è qua vicino a noi. Vogliamo dare anche qualche altro consiglio ai ragazzi e non solo a loro per poterla mantenere questa memoria? Beh, innanzitutto ci sono dei film bellissimi. Io nel mio libro faccio sì che i ragazzi in una scuola siano invitati a cercare le ultime testimonianze. Quello che sarebbe bello, ancora adesso che c'è la possibilità, è che i ragazzi si guardino intorno e vadano a cercare ancora i sopravvissuti, i testimoni, non necessariamente della Shoah ma anche proprio della Resistenza. Svezia è stata una città importantissima per la Resistenza. Bisnonni, ancora in vita, anziani, fare un po' i ricercatori e lasciare anche ai propri compagni futuri che non avranno questa possibilità delle tracce importanti del passato.